Hi guys, falla galera, la cicoste, ciao ragazzi, bentornati sul canale di Zalfix, questa volta con una gara un po' inusuale per il mio canale, sapete raga che porto sempre gare stunt, gare LTS o comunque gare parkour, gare troll o roba del genere OGGP e siamo qui con la BMX come potete ben vedere con il nostro borzone classico sulle spalle è una gara che si chiama BMX Hard Parkour, non dovrebbe essere tanto hard raga, vediamo un po' io non è, sono una scima, non è, sono fortissimo con le BMX, però ogni tanto mi piace dilettarmi in queste gare raga ok, ci siamo intanto, non sto saltando tantissimo, molto molto bene, prendo sempre sta cosa, non so se si può anche evitare di riprendere raga però ci siamo, lollo saranno velocissimo, ok, dai dai per favore vai più veloce no vedete raga, mannaggia la miseria, andiamo qui più veloce raga qui c'è il trollino, lo possiamo superare anche senza saltare, qui raga no guardalo guardalo bastardo, l'ho buttato più giù all'ollo vabbè il checkpoint è qui, quindi tutti tranquilli, fammi passare oh no cazzo eh qui c'è il troll che non ci fa passare giustamente dai muoviti dai eh la fancy bomber cercava di passare ma non c'è riuscito raga qui dovrebbe essere molto easy, perfetto ci siamo fammi passare terza posizione, quindi in pochi sono usciti, quelli si sono uccisi da soli dai troll, qui inutile, prima posizione per noi eh dove, che dobbiamo entrare nel pullman raga entriamo nell'autobus, mezzo rotto ok raga ci siamo ci siamo, ci siamo, dai dai, non faremi brutti scherzi qui non cade qua devo saltare raga, no 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 no, che cazzo fai eh qui posso solo immaginare che cosa succede con il cosco, con il contatto ok di prepotenza ci siamo presi di sta parte qui no no no, fammi andare indietro ma perché non va? mannaggia la miseria ok raga, ci siamo dentro dobbiamo fare quella parte di merda, non ci riesco, è strettissimo qua si mette la prima persona qui è caduto questo, mi dispiace bro ok ci sono, ci sono, ci sono possiamo mettere anche la terza persona, un'altra volta questa volta era più facile però ci siamo raga, ci siamo io posso scendere anche qui perfetto raga, preso il checkpoint, quarta posizione ci sono i tubi lì che cosa bisogna fare? eh raga che cazzo ne sapevo io qui oh che recupero? no no, poi faccio questo recupero e poi mi butto giù, dai ah guarda quello come sta andando lì avanti chi è? Nikov, sta volando raga ok vabbè qui, easy no 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 no, non farmi brutti scherzi andiamo normale raga senza fare troppo cose strane, difficili dai fammi passare ottimo raga no 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 no, questo è più difficile raga no il trucco è andare dritti semplice, avere pazienza e andare bene ci sono delle ruote lì sotto raga non so che cosa ci aspetterà quanti checkpoint su? 18 checkpoint raga, abbastanza lunga quindi non demordiamo e non perdiamoci mamma mia raga, sta parte è infamissima ok in realtà non era neanche così tanto difficile ci siamo qua raga, mettiamoci dritti e andiamo oh metti dritti no vabbè ma che cia miseria? figa la faccio, la voglio fare impennando ok mamma mia una stronzata era perfetto raga ci siamo questo era spawnato davanti a noi c'è qualcosa di difficile sì c'è questa cosa qui andiamoci a quest'altra parte perché se no ci rompiamo i maroni a vicenda ma che se facessi un salto? no raga ha fatto una cazzata dai che non è difficile dai che è una cagata dai dai che è una cagata dai perso tempo inutile tu vai di qua io vado di qua perché se no 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 però dio santo e raga nico ci sta facendo il culo è un minuto e 42 di distacco addirittura addirittura allora tutte le parti sono così raga in realtà questo coso è molto più largo di ciò che si bisogna frenare perché questo pedale è in automatico una stronzata mannaggia mi è copertito quel tempo da dai dai che è facilissimo dai qui raga un po' un attimino un po' più complicato basta fare il salteri non prendere troppa velocità sto prendendo troppa velocità ok ora va bene dimmi che ho recuperato qualcosa almeno dal signore nico vediamo un po' raga era un minuto e 47 un minuto e 46 fanculo sed alfix alfix triste qui riusciamo ad andare un po' più veloci così ok raga qua dobbiamo attuare il metodo del no però così questo metodo qua non va bene il metodo del saltino per andare più veloce assolutamente questo raga così andate molto molto più veloci raga ma penso che ormai lo sapete per forza ovviamente c'è qualche altro metodo un po' più complicato per andare ancora più veloce però io questo riesco a fa what oh ok mamma mia raga mamma mia raga che ho combinato mamma mia raga che ho combinato abbiamo operato un minuto praticamente da nico che ci ha salutato ciao nico però pensa poco a salutarmi perché nico qua zio alfix all'improvviso è diventato professionista a casa proprio perché io sono un abetto qua con la bicicletta ma le ho combinato una cosa spettacolare eh raga eh raga attenzione recupero magistrale di zio alfix qui andiamo su sentite il ruoto il motore oh cazzo sentite il rumore strano delle bmx sulle ruote ok dobbiamo scendere tutte le ruote così praticamente raga ma non è che se facendo un glide andiamo meglio ci provo raga o facciamo tutto legit vabbè facciamo tutto legit dai non vorrei che poi ci trolla e perdiamo ancora più tempo però nico mi pare che abbia sbagliato o dico una cazzata no se non mi ha accettato o è caduto giù raga non lo so o è qui è qui è qui prendi sto checkpoint raga siamo qui dove è nico raga siamo qui dove è nico abbiamo fatto un recupero incredibile no 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 raga no vetti diritto fermati mamma mia raga mamma mia raga che recupero abbiamo fatto incredibile facciamo i buffoni anche facciamo così impennando guardatelo zio alfix ormai prende la mano ok 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 ci siamo raga dobbiamo recuperare questo dobbiamo recuperare questo raga è caduto anche giù e sta cadendo quasi giù prima posizione per zio alfix raga non voglio cantare vittoria perché questa sarà abbastanza dura ce lo so ok dai 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 ok non mi sbatterli con la schiena che ti uccido dai veloce 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 che c'è nico che sarà come un pazzo dopo che stava primissimo raga stavolta un po' di fortuna a noi dai 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 che ci siamo quante cazzo di no raga il sogno oh no nico anche ha sbagliato raga ha sbagliato anche nico ha sbagliato anche nico raga la sorte questa volta è con noi la fortuna è con noi madonna mia no dimmi che ha sbagliato ha sbagliato non cadere non cadere che ti uccido mamma mia che ansia scusate se vi sto mettendo anche ansia anche a voi questa gara raga veramente dura questa parte qui è è easy però uno vuole farla più veloce ok così sto andando molto più veloce raga però la dovrei frenare ora dovrei frenare frena 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 non frena non frena raga la bicicletta di merda non ha frenato e nico questa volta mi pare sia dritto lì sul checkpoint eh si raga mi ha preso si raga l'ha preso no 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 non cadere giù ti prego eh si nico ha finito o c'è un glide alla fine raga bisogna fare un glide alla fine si raga quindi abbiamo tempo per recuperare abbiamo fottuto tempo per recuperare dobbiamo fare bene qui raga frena 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 bmx del cazzo frena 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 siamo dritti qui siamo dritti ora qui ok ok raga c'è il glide c'è il turbo lo sento lo sento c'è il turbo si scende qui turbo ragazzi andiamo andiamo col glide speriamo che davanti a noi nico v 998 mi dispiace bro ma devi sbagliare e che ne possiamo recuperare raga però qua la bmx non è andata molto bene però possiamo lo stesso recuperare si prima posizione raga la bmx è diverso il glide dalla bmx che dalla oh ma è qua vicino dove che dove sta raga dove sta è qui raga è qui è qui è qui ah ma è in aria è in aria uh è lì sopra vediamo se nico riesce si cazzo 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 raga bravo nico bravo 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 nico bravo ora sono andato bene raga peccato eccolo qui raga prima era impossibile raggiungere sta cosa spero ragazzi che il video vi sia piaciuto nel caso lasciate un like per farmelo capire anche un commento raga eccoci qui raga era facilissima vabbè comunque è stata una bella gara di bmx molto intensa molto ansiosa pure spero che fatemi sapere se volete altre gare così bmx a parkour diciamo ci vediamo al prossimo vi piace raga